Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video su Elden Ring ragazzi oggi vi faccio vedere come incrementare e fare quasi mezzo milione di rune in 30 secondi più altri 30 secondi arriviamo a un milione di rune quindi ci troviamo qui al palazzo della dinastia di Mowin fate quello che sto facendo io proprio adesso perché sto scalando questa collina fate così proprio come sto facendo adesso cercate di non cadere perché sennò ci sono queste schede che poi vi ammazzano e ragazzi io come primo tentativo sono riuscito a fare 390 mila rune più l'incremento e più lo scalapeo d'oro al secondo tentativo sono arrivato quasi a un milione di rune esatto un milione e 45 mila rune stesso metodo come ho fatto con altri video video precedenti per quelli iscritti al canale e per i nuovi iscritti questo è il metodo colpite l'aria poi quando avete raccolto tutte le rune ritornate indietro quindi aprite la mappa e toccate il punto di grazia più vicino e rifatelo rifatelo sempre più volte e fate così rune facilmente quindi velocemente è un trucco veramente bellissimo ed è un vero profitto sincero profitto io sto livellando così facilmente senza uccidere quei omini rossi là sopra con la reliquia antica perché veramente è un po' noioso quindi mi butto qua vado a fk faccio un po' di rune e me ne vado quindi tutto qua ora ritentiamo di nuovo ritentiamo quindi questa volta con la zampa di gallina io vado un attimo a a farmare delle zampe di gallina quelle a quattro dita delle aquile dei pinguini e vado a creare così quella in salamoia dorata poi aggiungo lo scarabeo d'oro ritorno lì sempre stesso sempre la stessa scalata fate così come sto facendo io proprio questa parte qua cercate di infilarvi là dentro e poi salite qua sopra poi con il controller vabbè è più semplice io sto usando il controller 230 ore su elderring solo con il controller quindi che faccio vado a strappare così la bocca la zampa di gallina più lo scarabeo d'oro che c'ho c'ho mezzo milione di rune perché l'ho fatto la seconda volta vabbè questo è un altro tentativo però possiamo direttamente arrivare a 1.045.000 io arrivo a 1.045.000 rune esatto 1.045.000 grazie all'incremento dello scarabeo e la zampa di gallina in salamoia dorata ecco che arrivano le rune da mezzo milione arriviamo a 989.000 e più aspettate più arrivano rune quindi io non ho aspettato a lungo ho aspettato solamente 30-40 secondi non è che ho aspettato 5-10 minuti chissà cosa può accadere non lo so non si sa provate a farlo voi che ne so andate a FK e vedete un po' quante rune vi ha dato quindi io spero tanto di esservi stato tagliato in questo nuovo tutorial e vi consiglio di guardare gli altri tutorial su Welter Ring come vale 2 milioni di rune in pochi secondi un milione di rune con incremento e altre milioni di rune grazie a nuovi glitch quindi grazie a tutti per questa visione iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate like per i prossimi tutorial e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao